si tratta di un libro molto importante perché chi vorrà finalmente conoscere quello che è successo a Genova dieci anni fa avrà la possibilità di conoscere davvero la verità, non le tante storie, le tante bugie che intorno a quelle tristi vicende sono successe. Il libro lo fa citando le fonti precise, le testimonianze, le registrazioni telefoniche, tutto quello che attraverso le immagini filmate è stato possibile ricavare dalla verità di quei giorni ed è una verità preoccupante perché il titolo già evoca questa preoccupazione, eclissi della democrazia. Certo quando apparati dello Stato si comportano come si sono comportati a Genova c'è da temere un eclissi, ma appunto un eclissi dipende da noi, da tutti noi, se siamo in grado di risolvere questa questione, dopo un eclissi il sole e la luna ritornano e questo è l'impegno che la società civile, la società delle persone dovrebbe assumere perché la democrazia è troppo importante, perché possa essere cancellata come l'avevano cancellata a Genova. Grazie per la visione!